E ciao a tutti ragazzi sono Jeff e benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video Oggi ragazzi sono tornato qua sul secondo canale e ovviamente continuiamo con le nostre recensioni sulla saga degli X-Men Allora ragazzi, prima di iniziare con questo nuovo secondo me vi consiglio come sempre di mettere like, iscrivetevi al canale, condividete i video con tutti i vostri amici Commentare, attivare la campanella di avviso se volete sempre aggiornati E iniziare subito con questo nuovo secondo me Allora, oggi parliamo di Wolverine l'Immortale, film del 2013 diretto da James Mangold Sì esatto, James Mangold, proprio il regista che ha diretto Logan Che è lì veramente film, ho dieci spanne sopra questo Logan Infatti mi chiedo come abbia fatto a fare questo film e dopo Logan Che devo ammettere, riguardandolo, riguardandomelo questo film L'ho rivalutato in positivo, ecco me lo ricordavo molto peggio Invece riguardandomelo mi è piaciuto abbastanza, dai ci sta, ci sta come film Ha una fotografia che comunque mi è piaciuta tanto, il regista, si vede che c'è un regista importante Comunque James Mangold è un bravo regista, ha fatto Wolverine l'Immortale, Logan, Le Mans, ha fatto l'ultimo film di Indiana Jones Comunque ne ha fatti tanti E poi comunque qua in questo film ci sono delle scene veramente bellissime Secondo me come ad esempio la scena del treno, quell'inseguimento in treno tra Wolverine e la mafia giapponese, si E anche la scena ragazzi in cui si apre il petto, c'ha il cuore in mano Ragazzi quella scena è bellissima Una delle migliori scene in tutta la saga degli X-Men Veramente quella scena Ti provoca quel voglio vedere ma non voglio vedere Cioè è una sensazione strana ecco Ora direi un po' di parlare diciamo dei personaggi Come protagonista qua abbiamo Wolverine di Hugh Jackman Comunque Hugh Jackman l'ho visto che ci credeva molto di più in questo film Rispetto a X-Men nelle origini Wolverine Che lì non lo so per qualche scena non mi sembrava tanto convinto Invece qua Hugh Jackman è bravo Ecco mi è piaciuto come ha interpretato Wolverine Qua Wolverine che viene avvelenato da Viper Quindi diciamo la sua rigenerazione diminuisce ecco Non è più come un tempo E anche nel finale che perde i suoi artigli da Damantio Che poi però in Days of Future Past Nessuno dice niente Ce li ha quando scende dall'aereo lì E nessuno dice niente Va bene però Me la sono sempre spiegata sta roba Che visto che Silver Samurai era fatto interamente da Damantio Magari Mariko l'ha recuperato E gli hanno rifatto l'operazione a Wolverine penso Anche visto che qua magari ci avevano un Un marchigegno più tecnologico Quindi Wolverine ha subito meno male Non lo so Io me la sono sempre spiegata così sta roba Però nel film Cioè in Days of Future Past Questa roba non viene spiegata Ma fa niente Poi qua infatti c'è anche il personaggio di Mariko Che mi è piaciuto come personaggio Qua è interpretata da Tao Okamoto Che ci sta nel ruolo È brava comunque Comunque c'è anche questa storia Che l'azienda è sua Visto che il padre è morto Cioè il nonno è morto E quindi invece di dare tutta l'azienda al figlio Ha deciso di dare l'azienda alla nipote Ecco e quindi questa roba mette proprio il padre E la nipote contro ecco Cioè il padre e la propria figlia contro Quindi ci sta questa roba Poi qua ci abbiamo anche Yukio Interpretata da Ria Fukushima Che è brava Ci sta nel ruolo Yukio In realtà però mi piaceva di più L'attrice che vediamo in Deadpool 2 Lì secondo me l'attrice era un po' più brava Qua Yukio che diciamo è un po' la guardia del corpo di Wolverine Come dice anche lei nel finale E Diciamo porta Wolverine proprio in Giappone Perché Silver Samurai diciamo Lo vuole vedere un'ultima volta Anche se poi Nel film scopriremo che non è proprio così E questo Silver Samurai Non ce la racconta giusta ecco Qua come villain Ci abbiamo sia Silver Samurai sia Viper Viper depredata da Svetlana Chotchenkova Penso che non so come si pronunci questo nome Vabbè Viper che Non lo so è un personaggio Un po' sprecato Viper in questo film Perché si C'ha i suoi poteri dei fumetti Quella scena in cui Si toglie la pelle è un po' strana Anche che perde i capelli E tipo Si toglie Si strappa la pelle sotto a altra pelle Che schifo Vabbè Infatti poi nel combattimento finale C'ha il costume fumettistico Un po' Cioè Cioè Wolverine Proprio questo film È fatto per non essere Molto accurato ai fumetti E nel finale mi metti Sia Viper che Silver Samurai Silver Samurai Tra l'altro fatto in una CGI Che È invecchiata un po' male Quella Quella CGI Questa CGI di questo film Soprattutto di Silver Samurai Che Si muove un po' Si vede che è un po' fintino Che non è lì Ecco Che non hanno fatto un'armatura Vera Ma ovviamente l'hanno fatta CGI In CGI per Spendere Meno Meno soldi Quindi Boh Viper un po' Sprecato come personaggio Però Boh ecco Qua vediamo anche Ritorna Come visione Diciamo Di Wolverine Il personaggio di Jean Grey Interattata da Funk e Jensen Che ci sta Perché Mi piace poi anche Che nel finale Wolverine Decide finalmente Di lasciarla andare Anche perché Il problema Della scena di X-Men 3 Vabbè Uno dei tanti problemi Di X-Men 3 Era proprio che Wolverine Diciamo Uccideva Jean Grey In un modo Un po' Troppo facile Cioè Che passava Un po' Cioè Wolverine Era lì Jean Grey Diceva Uccidimi E lui diceva Tiamo Boom Così E l'uccideva Cioè Un po' Troppo veloce Infatti qua James Mangold Diciamo Spiega un po' Tutta questa faccenda Che Wolverine Da quando ha ucciso Jean Grey Diciamo C'ha le sue visioni Ecco E mi è piaciuto Proprio che Nel finale Jean Grey Dice Vieni con me Wolverine Dice non posso Perché Ormai ho capito Diciamo Chi sono veramente Così Di una roba del genere E Jean Grey Se ne va Ecco Così proprio Si capisce Che Wolverine Non avrà più I incubi Su Jean Grey Ecco Quindi questa cosa Ci sta E mi è piaciuta E ora ragazzi No Prima parliamo di un'altra roba Un attimo Per fare un po' Più di hype Come altro villain C'è anche Silver Samurai Interpretato da Al Yamanouchi Che è quello che doppia Gli spot Pubblicitari Della Suzuki Hybrid Così Che è bravo Molto questo attore Perché Sia interpreta il personaggio E sia L'ha doppiato in Almeno in italiano Poi non so se anche Nelle altre lingue Però mi è piaciuto Mi è piaciuto che lo doppia Anche in italiano Cioè doppia Se stesso Così E' bello Come cosa Cioè Mi è piaciuta Come roba Ecco E anche Silver Samurai Qua Anche la scena Della Bomba Su Nagasaki Mi è Mi è piaciuta Come scena E' molto bella Anche che richiama I fumetti Con Wolverine Tutto bruciato Ecco E Silver Samurai Che ai tempi Non era ancora Silver Samurai Che diciamo Rimane lì E gli chiede Che cosa ha E così E quindi Da lì in poi Rimane ossessionato Da Questa roba Della Rigenerazione Dei poteri Di Wolverine Quindi Questo personaggio Mi è piaciuto Ora Parliamo Della post Credit Che era Quello che stavano Attendendo tutti Perché ormai Nessuno Penso che Ha in quei tempi Si stesse aspettando Più Collegamenti E Film De X-Men Insieme Visto che ormai La trilogia Era finita E stavano andando Un po' A tentativi Il film Sul passato Di Wolverine Questo film Che veniva dopo Sempre un po' Su Wolverine Perché era il personaggio Di punta Poi hanno fatto Anche il film X-Men L'inizio Che parlava Delle origini E non è che c'era Proprio un sequel Dopo X-Men 3 Con tutti gli X-Men Insieme Ecco E con questa scena finale C'è questa scena D'abituto di coda Veramente Che te vedi Il professor X Ancora vivo Da Patrick Stewart E il magneto Di Anne McKellen Che dicono Wolverine Ci serve il tuo aiuto C'è una minaccia Che potrebbe Sterminare Tutti Tutti i mutanti E si vede pure La pubblicità Delle Trask Industries Cioè Veramente Quella roba Bellissima E tra l'altro Ho scoperto Che ovviamente Quella scena È stata diretta Da Bryan Singer Proprio Cioè Tutto il film È diretto Da James Mangold Però quella scena Da Bryan Singer Che veramente È bellissima Quella scena Non si può dire niente E niente ragazzi Per questo Per questa nuova puntata Sulla saga D'X-Men Direi che È tutto Ci vediamo Ovviamente Col prossimo Secondo me Che sono super in ansia Ragazzi Per parlare Di X-Men Giorni Di un futuro Passato Alla prossima Ragazzi Alla prossima Alla prossima